Noi riteniamo per se stesse evidenti queste verità, che tutti gli uomini sono creati uguali e che sono dotati al creatore di certi inalienabili diritti, tra cui la vita, l'ubertà e la ricerca della felicità. Ma quando una lunga serie di abusi e malversazioni, volti invariabilmente a perseguire lo stesso obiettivo, rivela il disegno di ridurre tutti gli uomini e l'assolutismo, è il loro diritto, è il loro dovere ribaltare il siffatto governo e provvedere nuove garanzie alla sicurezza della benedizione. Grazie a tutti.